Lasciati contagiare da Virus, il nuovo lounge bar e non solo di San Potito Fannitico. La cosa è strana, la malata, è sicuro il che busca e incontra, che pa' donde vado con mi lanza, pa' detrás di questa montagna, con vota stacone o descarsa, giova lo che giova a distanza. Irieta sarà già il mio destino, dibucare bene il cammino, buscare quello che è mio. Jessica, Virus, un bar e non solo. No, non solo perché abbiamo puntato anche a qualcosa di diverso, sarà anche un wine bar, sarà anche finger food e tanto altro ancora. Abbiamo puntato anche per dare un po' di vita al paese, visto che è una zona un po' così, però comunque cerchiamo di rianimare il tutto e anche i giovani. Tu mi parlavi dell'idea del nome, un virus positivo da portare a San Potito. Virus positivo assolutamente sì. Lasciati contagiare, c'è anche questo sottotitolo. E' lo slogan che ci rappresenta. Lasciamoci contagiare un po' tutti e diamo vita a questo paese. Ci puoi dare anche delle info più dettagliate su dove trovare Virus? Virus si trova a San Potito Sannitico, via Ascensione 30. Vi aspettiamo. In bocca al lupo. Crevi questo lupo. Virus nuova apertura, un commento su questo locale. Virus, lasciati contagiare, dice Jessica. Allora lasciamoci contagiare perché sarà sicuramente un virus positivo che animerà questo piccolo paese. Di questo sono sicura. Ragazzi, c'è sicuramente qualcosa che lo staff vorrà dire ai nostri microfoni. Vi lascio la parola. Faccio gli auguri alla nostra boss. Che stagione è elegantissima. Ha un vestito bellissimo, una bellissima acconciatura, un trucco fantastico e perfetto. Molto innovativo, diverso dalle altre strutture che abbiamo qui. Molto moderno. Moderno, originale, non ce ne sono nella zona così bella. Sicuramente penso anche l'idea di incentrarlo non solo sul bar in quanto tale, ma sulle attività che tanto attraggono negli ultimi periodi. Certo, rimane in bar che è molto bello. Poi forse è un po' fuori zona centrale, però comunque è molto molto bello. Potrebbe essere un motivo per conoscere una zona magari poco conosciuta. Conoscere un po' tutti e venire qua nel bar a Sabotino. Velocemente, da voi che stasera state lavorando qui, vorrei un commento sul locale. Il locale è bellissimo. È la prima volta che veniamo, immagino sia la prima serata. È veramente bello. La saletta è carina, le persone anche. Quindi tanti auguri ai proprietari. Penso che tu sia d'accordo con lei. Penso che sono d'accordo. È un ambiente dove ci si sente a casa subito. Infatti è un ambiente caldo e familiare, nonostante sia la prima volta che veniamo. E penso proprio che ritorneremo. È la prima volta che ci troviamo in questo paese. Bellissimo per ora. Abbiamo avuto solo buone... Sergio, dammi la parola questa. Io non ti sento, non ti è chiaro. Non l'ho sentito, ti giuro. Un po' difficile arrivarci, capito? Un po' di pressione. Ah, da Napoli siete arrivati. Come siete riusciti ad arrivare fino a qui? Voglio dire, attraverso le indicazioni sicuramente. Ma qui chi vi ha spinti? Amicizia. Amicizia con la proprietaria. Amicizia con la proprietaria. Amicizia con la proprietaria che per arrivare siamo paracadutati. Anche di Mad Dogs, di Soft Air Napoli. Beh, però il viaggio, voglio dire, ne valsa la pena, nonostante il tempo e il percorso. È l'aereo effettivamente con l'aeroporto proprio qui sulla chiesa. Siamo paracadutati. Arrivati fuori siamo paracadutati, è stato un attimo. Quindi paracadute li abbiamo nascosti nel bar. Posso immaginare che però il locale vi piaccia? Certamente, come no, certamente. Tornerete qui a San Potito a trovarci? Ovviamente, sicuramente. Perfetto, ci siamo fatti tre nuovi amici. Buona serata ragazzi. Un bel locale, molto carino, veramente molto carino. Sicuramente ci tornerà a Imad? Certo, certo, certo. Immagini! Cri, 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 c'alli una fiesta super loca. Cri, 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 cri. A press Że que te toca. Cri, 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 ça? No te quedes atrás. Cri, 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 Vai, va, que no hay manta. Quiero verte bailar, moviendo tu cintura. Esto es una fiesta y loca pa' que tú subas. Halevítete, solo arréarnish. No dejes que te lo cuentes. No paydasas más tiempo y bóntate. Ragazzi un messaggio per Jessica da parte vostra Cioè complimenti è bellissimo Complimenti, tanti auguri San Potito è una città conosciuta diciamo È una bellissima cittadina Quindi mancava un posto del genere È bellissimo, veniteci Allora faccio i miei più cari auguri al virus Che è un locale abbastanza giovanile Penso che non ci sono locali uguali Veramente ci è piaciuto E dentro c'è anche una piccola saretta dove stanno ballando E un bel amico Ci siente Ciao Virus, lasciati contagiare Grazie Ci amo No te quedes atrás Criccricci pari Ella ha perdido su pezio